Ad Apecchio torna Baratto Calt, festival del baratto culturale che lega arti e territorio. Siamo alle Sabatini. Baratto Calt è un progetto che mette insieme diverse arti, teatro, musica, danza e arti visive a servizio di un territorio che per quest'anno abbiamo scelto Apecchio, il cuore battente. 30 gli artisti provenienti da tutta Italia, sono loro i protagonisti della residenza in corso a Serravalle di Carda, frazione di Apecchio. Per una settimana si cimenteranno in diverse sperimentazioni artistiche guidate dall'attore e regista Carlo Boso. Facciamo vari laboratori, uno di musica popolare con un altro che è sul movimento scenico e poi facciamo dei vari scenari, quindi cerchiamo di fare un piccolo percorso storico partendo dalla storia degli Ubaldini e dei Brancaleoni per arrivare poi fino al 1930. Diversi quadri dove si ripercorre la storia del luogo e dei suoi abitanti come un fatto che segnò il piccolo borgo. Qui nell'Ottocento ci fu un'enorme valanga che travolse parte di questa chiesa e delle case intorno e morirono tantissime persone, tantissime persone di una famiglia, la famiglia Lucchetti. Il progetto è nato da un'idea del teatro Le Ombre di Pesaro e vincitore a livello nazionale del Creative Living Lab, avviso pubblico del Ministero della Cultura. Gli obiettivi sono proprio quelli di far lavorare le arti insieme e di valorizzare il territorio in cui si lavora. Non a caso i temi che sono stati scelti sono quelli di pezzi di storia di questo territorio che ne è molto ricco. È tutto, grazie di averci seguito e buona serata.